Vivevo e lavoravo a Milano. Molto stress, poche soddisfazioni. E poi ho sentito il richiamo della mia campagna. Ho venduto i vestiti che non indossavo per comprare ciò di cui davvero avevo bisogno. Ora ho quello che voglio e vivo facendo ciò che amo. Sono io. Lo vuoi? Compralo su Vinted.